Un concerto diffuso in uno dei borghi più belli d'Italia, Lucignano, siamo nella Valdichiana Aretina, qui appunto il concerto dell'orchestra dei giovani europei. La European Spirit of Youth Orchestra è la prova più esemplare che il sogno europeo è possibile. 70 giovani musicisti tra i 12 e i 19 anni, selezionati ogni anno in 18 paesi europei, si incontrano per diventare orchestra solo per un anno. Questa orchestra ha anche questa particolarità che si riforma, rifonda ogni anno completamente. Ci sarà anche un altro incontro invernale che si concluderà con un concerto a Trieste per celebrare il trentesimo compleanno dell'orchestra, ma dove avete già capito che il più giovane ne ha 12 e il più vecchio 19, pertanto sono molto più giovani dell'orchestra stessa. Un progetto che ha visto crescere musicalmente e umanamente oltre 2.500 giovani di talento nella sua storia ha formato importanti musicisti. Dopo 30 anni possiamo anoverare due spalle del Teatro della Scala, il primo violino del London Symphony Orchestra, tra il trombonista dei Berlin Philharmoniker e tanti altri, pertanto sono ragazzi che grazie a questa esperienza hanno capito qual è la loro via da percorrere e hanno continuato oggi, dopo 30 anni alcuni di loro tornano già come docenti dei loro colleghi più giovani delle generazioni, insomma l'ultima di quest'anno.